se tu esci una sera vai alla ricerca per distrarti dell'amico quello single c'è in tutte le compagnie quello abbronzato tutto l'anno quello che ogni volta che lo chiami come va le trombo tutte io ti porta in discoteca la discoteca è cambiata una volta si andava alle dieci e mezza adesso alle dieci e mezza devi andare a dormire perché si va a luna io ero sdraiato nel letto con la dei filippi era sabato addirittura quando si apriva la busta piangevo brava maria brava figuratevi con quale entusiasmo sono andato in discoteca vai al bar ti accorgi di come sono cambiate le discoteche il barista erano italiani come ti chiami tu franco tu andrea ciao cosa vedi coca cola ghiaccio ghiaccio perfetto ghiaccio limone perfetto limone adesso i baristi tutti questi ragazzini con le bottiglie li vedono tutti i nomi come ti chiami tu frank tu tex tu mix tu tex e dove sei lissone vedi tutti questi ragazzi col tatuaggio dieci anni fa se vedevi uno in spiaggia col tatuaggio la reazione di ognuno di noi vieni via con lì è stato in galera vieni via che t'ha male adesso ce l'abbiamo tutti cosa c'è un tribale spaziale tu un citofono qua davanti tu c'è uno scaldabagno della ime a te che qua dietro sono questi ragazzini di 18 bar a 20 anni che tu li riconosci un chilometro prima di arrivare al semaforo perché hanno la macchina che costa 100 euro gli sterio 25 mila euro c'hanno degli sterio basta accarsi volume si ribalta la macchina in parcheggio l'inglese fa parte della nostra quotidianità ognuno di noi ha imparato almeno un termine inglese io i primi problemi li avevo quando andavo da mcdonald stavo dentro delle mezz'ora la signora mi diceva dica un attimo ma caspita mi dia il tempo no tu te li prendi dopo da solo perché ho già un casino io i panini sono quelli per lì in cima mi dò un cheese mix e can be a fish quick roll la signora mi dice a ketchup che cazzo sono me ne dia due poi vediamo i bambini adesso sono più evoluti di quello che eravamo noi perché l'inglese lo imparano già all'alimentario io la bambina rachele 11 anni studia l'inglese elementare siccome un po carente la porto al pomeriggio a fare ripetizione da una signora madrelingua alle quattro e mezza va a prendere la mia mamma che ha 82 anni e dedico l'ognia veneta mia figlia quando vede sua nonna in lontananza le fa hi grandmother mia mamma in veneto mi chiama mi dice andrea anche se la bambina che ha un problema la bocca zio can la parla ma la design la che ha bisogno di un lodo pedistico in discoteca hanno trovato collocazione posto di lavoro due personaggi il cubista maschio da un decennio c'è quello tutto abbronzato del pantalone in pelle degli addominali scolpiti grossissimo appena lo vedi ciao come ti chiami mattia poi c'è la cubista sono delle donne meravigliose con delle gambe dei fisici tu le vedi da lontano e dici ma guarda che polpacci guarda le caviglie camminano verso il cubo si avvieno le vedi che camminano in questo modo che uno dice poverina questa se cagata addosso invece hanno le scarpe della termo z non so se vi siete mai viste voi donne con le zeppe avete quattro dita sopra il mignolo morto senza sangue appoggiato fuori tutto legato che ogni tanto il mignolo vedi che si gira dice per favore andiamo a casa nelle discoteca di adesso hai a disposizione per ballare un metro quadro e tu continui dance what you want to dance do you want to dance do you want to dance dopo tre ore sei sudato fradi cioè una sete vedi il bar che è lontanissimo però in un tavolo del privé vedi 12 bicchieri di vodka gelata what you want to dance li prendi tutti una sera li ho bevuti tutti what you want to dance do you want to dance gli dico a uno scusa il bagno bella di zio a tra fanculo bella di zio dov'è il bagno di là vedo là in fondo in mezzo alla gente what you want to dance do you want to dance dopo mezz'ora di tragitto arrivo leggo donne minchia scusa gli uomini da quella parte rifaccio la fia what you want to dance non ce l'ha fatta più gli ho pisciata uno sui jeans lui si gira mi fa si suda e figa verso le due e mezza al cinquantenne non ce la fa più vuole andare a casa ma non trovo il suo amico perché è sempre in giro dove sei voglio essere a casa non ce l'ho mai più più per favore andiamo a casa sulle due e mezza watch one dance esci dalla discoteca e vai verso il parcheggio il parcheggio di solito a 300 metri quando esci ti incammini mentre cammini senti dici cos'è un ufo no sei tu che hai il timpano lesionato perché sei stato quattro ore a fianco alla casa non riesci a parlare neanche col parcheggiatore dov'è la mia macchina dove la macchina lui si gira ti fa poi arriva il tuo amico ti prende la tasca andi a far colazione la macchina la colazione dove è tutto aperto non capisci più niente vai fuori da una pasticceria panetteria alle quattro del mattino sei in fila fermo in fila da mezz'ora e in fondo la fila senti cappuccio e brioche si vuoto cappuccio cacao si una volta ho visto un pasticcero andare da uno alla fila tocca a te cappuccio e brioche alle quattro del mattino è buonissimo dopo che hai bevuto quattro vodka orange in discoteca nell'intimità del tuo letto verso le otto del mattino per mezzo di una reazione chimica naturale quando ti giri fai una scoreggia soltanto una senti proprio che anche la trapunta dice che no questa non ce la faccio neanche io prendi la macchina per andare a casa mentre quindi il tuo amico mette la radio what you want to dance si affianca la macchina dei carabinieri loro vedono che sei stonato ti fermano non c'è mai un carabiniere della zona dove ti trovi scendo dalla macchina entrambe voi due dove stiamo andiamo qual è il soggetto provi a dare delle spiegazioni maresciallo guardi che siamo bravi ragazzi stiamo tornando a casa lascia stare chi siete chi non siete che anche noi non abbiamo il tempo di stare qua a terci cristallari forza esci patente libro probabilmente una volta ho perso la patente in discoteca e gli ho detto maresciallo guardi che forse la patente l'ho smarrita non tutte le ciambelle riescono con il buco io l'ho guardato e gli ho detto di 28 ce n'è uno ha chiamato rinforzi fino alle 4 del mattino rosso di sera bel tempo si spera loro cercano di prevenire l'incidente del sabato sera con la macchina noi provano a darti spiegazioni ammettiamo che uno di entrambe voi due questa sera è uscito dal luogo della divertimentazione è alzato un pochino l'omero allo stop sopraggiungente arriva un altro mezzo veicolato con all'interno quattro medesimi stessi entrambe voi otto ma il cazzo dice quattro più due fa sei non vi fermate allo stop succede quello che succede l'indomani siamo noi che andiamo dei genitori gli diciamo è successo grazie a tutti